Musica Cosa vuolì Alvatore? Ma dato ricomandato. Oye, Mila, che vato? Non, non vengo mica cosa può essere. E poi se tu non la prima, non la zai mica, aprila. Ah, c'è un sbaglio. Come un sbaglio? Dei franceschi mi lasci e voli essere sicuro che un messaggio è ben passato. Ah, e perché un sbaglio? Un sbaglio di franceschi! Cosa vuolì? Cosa vuolì? Cosa vuolì? Cosa vuolì? Non. Tu crois que si j'appuie sur le bouton d'ouverture ça peut marcher parce qu'à vol d'oiseau, elle n'est pas si loin la voiture. Essaye, verrà bien. Cosa vuolì? Oh, ma cosa vuol? Com'è non? Cosa vuolì? Cosa vuolì? Cosa vuolì? Ah d'accord, mamma. Sì, ritorni allora. Evidemment, è parto senza le cli di la macchina. E senza il portabile. Oh, mio Dio. Oh, l'onore. Che fa di voi a questo vreddo? Non è vreddo, sono un amore. Adesso, tu mi prestate? Oh, quanti regoli suoi vreddo, io, fa bene? Oh, va, 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 io che ti presto. Oh, t'ai negato, è sorti adegunque per fare commission. Eh, vabbè, c'è l'abbè la faccia di agasciera quando andavo agasciato. Perché? Perché mi dava tutto senza pagare. Ma questa io abbia una bernonda. Ma, 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 ma. Ma, lì, ci vuoi, eh? Eh, vai, bu, vai. Appena i gendarmi, quantunque, eh? Eh, eh. Mmh. Non so. Ah, 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 ah. Eh, no. Ah, ah, ah. Vabbè, sei poco scifonato sta maneto. Oh, me ne parlami, sto sapendo il sogno che ho fatto. Ma tu hai un sogno che ho fatto? Oh, ma che ho fatto? No, ho fatto un sogno che ho fatto una torta, vero? Ah, non è mica un sogno che ho fatto? Oh, non so, ma, senti. Ho fatto un sogno che ho fatto una torta, ma non era mica istruito, vero? Allora, abbiava l'usale, abbiava la verina, l'olio, l'acqua, mi sciaccava tutto in bocca, vero? E dopo, vedi, gli altri litri di latte, vero? Isha. E dai, mani alla gru. Allora, gru, beh, quale mi bino? No, dopo, ha già messo il gabbuno uvorni. Il gabbuno uvorni, eh? Eh, eh, eh. E dopo, mi sono sbagliato, che non era più uvorni, che era u guscino, eh? Peccato. Avivina ne era meno uvorni, eh? Ma, ma, hai capito di adotte di uvorni. Ah, 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 ah! Ti rendi conto, in 60 anni avevo frizzato tre volte di piu acqua. Da qui a poco, un c'è piu acqua putta uilè nantadèr, troppo mondo, troppo. E in Francia, siamo mica quelli che si riproducevano il piu. Eh, 1,88 violli a 20.000. Quanto? 1,88 violli, on imica logico. So è statistico. Eh, ma, 1,88 violli, valladi che 1,88 violli non imica vinito. Valladi che 1,88 violli è vinita a otanto tu percianto. Eh, po' d'assi. Tu es sûre que tu veux pas que je le fasse? C'est ce que je te dis que je vais y arriver, ma piquette. J'ai même regardé un tutoriel sur YouTube. Eh oui, mais le circuit électrique, c'est dangereux. Ma ça va, change l'ampoule a la cuisine. Pour toi, c'est dangereux. Attends. Alors là, il dit quoi, ma piquette? Mais ça va, c'est qu'une ampoule, hein? Ah, la bave du crapolette. Tu disais, bébé? Oh, ça va, lis-on, remont, toi. Eh, je veux bien. Enfin, avec un peu plus de lumière, ce serait mieux. C'est ça, c'est ça. Je préfère la carte. La tablette est déjà là et fait déjà mal à l'autre. À l'Antigone, si, oui. Ecco la jugeppa. A buzine de vache, quoi, ou sur la tablette. Sassina, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.